Situazione ingestibile, un dramma assoluto per tutto il settore della ristorazione che nel Sannio non è stato foraggiato dal boom turistico registrato quest'anno dalla Campania. Ristorazione, ricettività, alberghiera sono i settori più colpiti dal caro Bollette e gli imprenditori dovranno compiere una scelta tra i mostruosi costi energetici e le spese di dipendenti, fitti e materie prime. Si dice preoccupato Mario Carforo, il rappresentante sannita di Mio Campania, il movimento Imprese e Ospitalità. Le bollette di settembre saranno quelle con il rincaro maggiore. La situazione è drammatica, abbiamo bisogno urgentemente dal nuovo governo di un intervento concreto per il pagamento delle bollette, altrimenti da qui a fine anno penso che tantissime attività di ristorazione non chiuderanno, non c'è possibilità in questo momento di andare avanti. Io faccio un appello, ma veramente urgente, ai neo onorevoli deputati della Sanniti di fare qualcosa per noi, attività della provincia di Benevento, perché altrimenti senza un concreto aiuto del governo non possiamo andare avanti. Chiedono dunque un'azione immediata perché i rincari che pesano su tutti cominciano ad incidere anche sui ricavi. Le famiglie spendono meno e la situazione si fa ancora più pesante. In più le famiglie quest'anno hanno dovuto subire il caro bollette anche loro, il costo dei libri, quindi è stato un settembre abbastanza lento durante la settimana, al fine settimana si lavoricchia, ma il problema sono i costi.